Rilanciare Bagnoli fa ripartire l'operazione con fatti concreti e portarla a termine, superando gli errori del passato, lo scetticismo generale e gli annosi problemi dell'area, a partire da quello della bonifica. È il messaggio principale lanciato nella conferenza stampa appositamente convocata dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris sul tema di Bagnoli, alla quale hanno partecipato il vice sindaco Tommaso Sodano, l'assessore Luigi De Falco ed il presidente di Bagnoli Futura, Ambrogi. Noi abbiamo ereditato un cadavere da un punto di vista economico finanziario e anche patrimoniale. Abbiamo fatto un grande sforzo come amministrazione per rimetterla in piedi, per riconquistare fiducia negli altri soggetti che operavano su Bagnoli, un lavoro difficile fatto in silenzio, con una sinergia importante tra amministrazione comunale e società Bagnoli Futura, ma stiamo lavorando anche con la regione, con l'università, col governo, per cercare di mettere insieme le migliori competenze istituzionali e professionali per il futuro di Bagnoli. È stato illustrato dunque un cronoprogramma che prevede fra l'altro le aperture della porta del parco a giugno, del turtle point della stazione zoologica a settembre, del parco dello sport a dicembre, oltre ai tempi per l'alienazione dei lotti edificabili del nuovo bando di gara in cui c'è spazio anche per l'edilizia sociale e soprattutto per quel dettaglio di parametri di certezze che precedentemente erano mancate, causando per gran parte la mancanza di offerte. Fatti concreti che volevamo annunciare ai cittadini per annunciare sempre e come sempre la lotta senza se e senza ma ad ogni forma di speculazione, però anche un no all'immobilismo perché quelli che vogliono che Bagnoli rimanga sempre ferma per non ripartire mai. Gli interventi riguarderanno dunque quattro lotti per un totale di 64.000 metri quadri dove saranno costruite case, uffici e negozi. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 giugno. Quanto alle opere di bonifica va ricordato che fanno parte di un progetto di interesse nazionale ed in questo ambito è stata aggiudicata la gara per il primo lotto di bonifica dei fondali e si dovrà completare l'opera con la rimozione della colmata. Cambiamenti importanti dunque che riguarderanno per il futuro imminente anche la trasformazione della stessa mission della società Bagnoli Futura. Non più solo società di trasformazione urbana, non può una società vendere solamente suoli per poi pagare gli interessi, coprire l'indebitamento. Esauve il circuito vizioso e non virtuoso di questi anni ma una mission più ampia che significa rilancio turistico, spiaggia pubblica, navigazione interessante, terziario, impresa. Una filiera importante tra università, sviluppo, ricerca e posti di lavoro, vogliamo creare anche posti di lavoro in quell'area che rimane una realtà industriale oltre che a vocazione turistica. Napoli è una città turistica ma continua a essere una città anche industriale.